nel video precedente ho realizzato i pan di stelle e come vi avevo già detto nell'assemblare mi si è rotto il pan di spagna quindi ho creato delle briciole di pan di spagna ed ho aggiunto la crema che ho usato per farcire i pan di stelle ho mescolato per bene prima con il cucchiaio e poi con le mani dopo aver ottenuto questa consistenza ho realizzato delle palline a 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 da a a a a a a le ho posate in frigo per un paio d'ore e a questo punto le passate nel cacao amaro ed ecco ottenuti dei fantastici tartufini grazie a tutti